Un sogno di tre ragazzi. Gabbiani News è un sogno di tre ragazzi delle medie. Ogni settimana questi ragazzi si schiariscono la voce al telefonino per urlare dentro la nuvola nera delle piogge acide, dei detersivi vaganti sull'acqua, dei prati di cemento e delle montagne di rifiuti. Come gabbiani ad ali distese volano verso un pianeta che si chiama speranza. Commento. Le stagioni sono alterate, le temperature squilibrate e i frutti della terra sono sempre più insufficienti e privi di valore nutritivo. Che cosa accadrà? Accadrà quello che accade da sempre. La realtà non fallirà mai e l'umanità ne avrà un avanzamento di coscienza che inizia sempre dal singolo individuo che vive ancora la condizione umana. Grazie. 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 Grazie.